Cappello tattico che si va a comandare E bello a tutti ragazzi, oggi siamo qui tornati con i miei buffi su Clash Royale E sono qui oggi per farvi vedere due replay veramente di livello Allora, partiamo subito col dire che ero in Arena 7 Ma purtroppo il gioco ha voluto farmi perdere un botto di coppe Quindi non riesco più Il mazzo che sto usando in questa scalata, se così lo vogliamo chiamare È un mazzo molto, ma molto costoso Di infatti 4.8 di desir Però non so perché riesco a vincerla molto facilmente le battaglie Allora, vi faccio vedere subito assolutamente Un replay veramente bello Perché io stavo in camera A un certo punto va via la corrente No, va via il wifi così a caso dal cellulare E quindi mi da errore di connessione E io non riesco più a rientrare A un certo punto poi riacquisto la connessione Entro e vedo ciò che tra poco vedrete Allora, ho iniziato subito col Golem Infatti mi stava sfasciando da sinistra Lui ho detto, vabbè, parto da destra come di solito E gli spacco la Primatore Infatti come potete vedere lui ho messo pure la Velè Per aiutare E infatti poi il bomber Quello lì che mi disturbava le mie truppe È morto quasi subito E infatti la Prima Stella nei primi secondi L'abbiamo fatta Lui continuava di domatore E continuava così così via Adesso lui mette la Valkyria Io in questo preciso istante ho perso la connessione Infatti come potete vedere Ho il full di Elisir E lui mi sta attaccando con il Principe E vi va pure a fare danno con la torre Mette gli scheletri Perché ovviamente lui è uscito Che io sono uscito dalla battaglia E in questo preciso istante Io sono riuscito a rientrare A 490 HP Quindi ho messo subito il Golem per difendermi Il domatore dietro Lui ha messo il domatore Io di culo ho messo la Tesla Per non farmi fare i due colpi Che mi avrebbero fatto perdere Per l'appunto Non so parlare Io sono andato avanti di Golem e Mago dietro Che è una combo veramente devastante Infatti lui adesso non sta più giocando Perché non aveva truppe né aeree Per distruggermi E il Golem non andava giù E infatti mi sono portato a casa un 3 a 1 E niente Adesso magari o faccio una partita online O vi faccio vedere un altro replay Vediamo un attimo Un altro replay Avevo fatto dopo quello Avevo fatto un 1 a 0 Abbastanza tranquillo Ve lo faccio vedere velocemente A velocità per 4 magari A sto giro Sembra la stessa tattica Golem con dietro il Mago Però lui continuava a buttarmi giù Questa cavola Quella cavola di Missy Lotz della Madonna Non riuscivo proprio ad andare avanti Continuavo a fare pochi danni E poi subivo ogni volta Con quel cazzo di Rocket Lui ce l'aveva sempre pronto Oltre a questa cavola di Torre Bombardiera Che scassa veramente il cazzo E niente Intanto ci sono i cani che abbagliano Ma ormai i miei video sono fatti di questa merda Io continuavo come ho già detto Golem lui è sempre di Rocket E avevo paura che mi buttasse giù la Torre Grazie a quel cavolo di Rocket E continuavo a spawnare Questa cavola di Torre Bombardiera Per fortuna ho avuto la veleno E il mio Golem Che mi aiutava Mi buttavo continuamente quel cazzo di razzo Ma alla fine sono riuscito a mezzargliarla in culo Grazie al mio Mago E quindi adesso andiamo a fare Una partita veloce online Andiamo il mio Dexy Andiamo online E proviamo a spaccare il culo Intanto guardo un attimo velocemente La registrazione Siamo a 3 minuti Ok Abbiamo 3 minuti per fare una partita Proprio di minuti giusti Allora Vediamo un po' cosa fa l'avversario Intanto ti metterai una Tesla Giusto per pararmi un po' il culo Intanto come potete vedere Cappello tattico per i cappelli di merda E adesso lui mette i Barbari Io andrei di Wizard Ovvero del mio carissimo maghetto Anche lui va di Mago E questa cosa non mi piace altamente Allora Andiamo di Minion Anche se dovevo andare verso più la sinistra Infatti vanno verso sinistra Perfetto Ok 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 La stiamo padroneggiando Adesso dobbiamo aspettare il mio caro Golem Cazzurì di coglione Che no te la metti in culo Vediamo un po' Partiamo di Golem E magari dopo Domatore Vediamo un po' cosa fa lui Perché se mette Moschettio e Scialla Allora 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 Vediamo un po' cosa mettere Io metterai il Domatore Però poi non ho troppo per contrastare Quello stronzo Infatti Mettiamo la veleno E le frecce Perché Quello stronzo Deve scendere giù Madonna Santa Che fastidio Quelli che si difendono sempre Ok Meno'è che con lo scopio Sono andati giù Perfetto Un po' di danni alla torre Gli abbiamo fatti Gli abbiamo anche distrutto Tutte le truppe che aveva messo Quel mago Non avrà Lunghissima vita Perché Vedrà trucidato malamente Da quello stronzo Lì Ok 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 Prendi di mira quello Perfetto Il Domatore ti va giù Prima che arriva la torre Adesso vado del mio Domatore Speriamo che non ha Palle di fuoco Quase varie Va bene anche Il Bombarolo Anche se mi distruggerai I miei carissimi barbari Bastardo Ok Andiamo un po' Se la stiamo comando Abbastanza bene Però stiamo andando A rilento Ok Non è che c'è per due Così possiamo mettere subito Il Golem Lui ancora non va danneggiato Neanche una torre Però come avete visto È un deck abbastanza lento Mettiamo la pelina Per rallentare E fare un po' di danni E vediamo un po' Cosa fare Allora Un terai di mago ancora Lui ancora con quel cazzo Di domatore Di merda Prima volta che mi Arriva la torre Ovviamente Ok però La combo mago e coso È abbastanza devastante Come vi ho detto Quindi Andiamo di domatore Andiamo di frecce Per sicurezza Così se facciamo Quel minimo di danno Che ci serve No ovviamente A mille di vita Andiamo ancora di velena Speriamo che ho preso La torre L'ho presa Sì perfetto Il mago va giù Ha usato anche La palla di fuoco Quindi possiamo andare Anche di barbari Però lui avrà il bomber No l'ha già usato Mettiamo un'altra Tesla Vediamo Vediamo No il bomber Ce l'ha ancora Vabbè Non ci sta facendo Grandissimi danni Alla torre Per fortuna Quindi andiamo Di golem ancora Ammazza la torre Vince Vediamo un po' Frecce Ancora quel cazzo Di domatore Che caga la minchia Come sempre Tanto non me la fai giù La torre Non me la butti giù Non me la butti giù Allora Magari vinciamo all'ultimo Grazie alla veleno Allora veleno Lui ha puntato contro Non il domatore Per fortuna Cazzo sto dicendo Vai a meno la torre Vai a meno la torre Fai lo scoppio Perfetto Dai abbiamo vinto Abbiamo vinto ragazzi Ce l'ha sempre Portata a casa Finalmente Questo deck Ve lo consiglio Però dovete stare Molto ma molto tranquilli Perché se non state tranquilli Non riuscite a vincere Vediamo un po' Quanti minutaggi abbiamo E' finito Finito ragazzi Come sempre La mia webcam Non ha mai Memoria Quindi Io spero che il video Vi sia piaciuto Cercherò magari di Svuotare quella cazzo Di telecamera Che è sempre piena Di cazzate E questo video E' abbastanza serio Perché c'è un due replay Della madonna Quindi io spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate tanti mi piace E tanti commenti Se volete vedere Altri mazzi consigliati da me Perché questo mazzo E' veramente devastante Ve lo lascio qua Per pochi secondi Quindi tanti mi piace Commentate con quello che volete Con qualche mazzo Che mi consigliate Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto E noi ci vediamo domani No non domani Quando avrò voglia Con un prossimo video Abbastanza epico Come questo qua Bella raga Grazie a tutti